Il capello ha un ciclo vitale regolare. Abbiamo la fase anagen, quella di crescita, la fase catagen, che è una transitoria in cui il capello persiste ancora, è ancora attaccato ma ha smesso di crescere, questa fase dura alcuni mesi, poi la fase di telogen in cui il capello è in riposo, quindi ha completato il suo ciclo vitale ma ancora persiste nella sua postazione e poi la fase di telogen caduta, il capello se ne va e al suo posto ne arriva un altro, quindi abbiamo una nuova fase di anagen, stavolta precoce perché sta crescendo un nuovo capello. Infatti i capelli si rigenerano in continuazione, la replicazione è più rapida negli uomini che nelle donne, normalmente un capello medio maschile vive per tre anni e quello di una donna anche cinque o sei anni. Infatti è erroneo dire che le persone perdono i capelli, semplicemente i capelli non si rigenerano, quelle persone che perdono capelli dopo una certa età, e varia moltissimo dai 20 anche ai 50 ai 60 anni negli uomini e nelle donne molto più raramente, non stanno letteralmente perdendo i capelli, semplicemente quelli che dovrebbero sostituire i vecchi capelli o sono più piccoli e atrofizzati oppure non ci sono proprio, quindi è una graduale perdita del ricambio cellulare dei capelli e questo avviene gradualmente nel tempo. Qui vediamo la classificazione di Norwood Hamilton, molto utilizzata nella classificazione della calvizia, che spiega i vari percorsi di evoluzione di questo fenomeno. Per motivi completamente diversi l'alopecia può colpire anche le donne, ma è molto più raro, però normalmente la motivazione principale della calvizia androgenetica, soprattutto quella maschile, è perché per motivi genetici o ormonali i bulbi periferi smettono di generare nuovi capelli sani. Ad ogni generazione i capelli sono sempre più piccoli e atrofizzati, fino dopo diversi anni a non generare più capelli. Però esistono anche forme di alopecia diversa da quella androgenetica maschile o femminile, ma anche areata. In questo caso non abbiamo una perdita dovuta a motivi ormonali come nel caso precedente, ma diversa, di cui le motivazioni possono essere per motivi di stress, per alimentazioni o per malattie. I sintomi sono chiazze calve temporanee o permanenti in alcuni casi, di diversa dimensione e forma, e colpiscono entrambi i sessi. Le macchie compaiono principalmente sul cuoio capelluto o su altre aree simili del corpo, come ciglia e simili, quindi è un evento totalmente diverso dall'alopecia. Normalmente oggi esistono diversi prodotti che più che altro tendono a rallentare il processo di calvizia androgenetica. Le soluzioni definitive spesso si traducono nei trapianti o nell'utilizzo di cellule staminali per allungare la vita dei capelli. Ma, come molti uomini sanno, spesso contrastare questo fenomeno è una lotta molto dura, faticosa, stressante e non sempre porta ai risultati che si vorrebbero avere. Questo è solo un estratto della lezione completa. Nella lezione completa vedremo quali sono i vari strati della pelle e cosa li caratterizza. Poi parleremo della differenza che c'è tra uomini e donne, perché comunque c'è una differenza anche nella struttura della nostra pelle. Poi vedremo alcune caratteristiche sugli annessi cutani, in particolare i capelli, e come si evolve l'alopecia in modo diverso nei due sessi. E poi parleremo di alcune caratteristiche o anche patologie, come ad esempio l'albinismo, ma non solo. Potete trovare questo ed altro ancora nella lezione completa, la numero 14 del mio corso, l'apparato documentario, quindi la pelle. E molto altro ancora ovviamente nel mio canale YouTube e sulle mie pagine social prof Antonio Loiacono. Grazie